Qualche giorno fa Alessandro Catteran, attraverso i suoi autori, mi ha chiamato per invitarmi al suo programma televisivo. Siccome sapevo cominciare Terence Hill con Don Matteo, allora ecco che desiderava che ci fosse un prete vero in studio, nel suo spettacolo. Allora eccomi qui pronto a donare un po' di gioia, un po' di sorrisi, un po' di allegria, un po' di festa. Non so cosa accadrà e questa sera saremo in diretta, io sono atteso tra poco quando partirò e raggiungerò gli studi di Via Mecenate e poi sarà tutto un divertimento, speriamo che sia così, ma sempre portare nel cuore di tutti la gioia e la pace. Sarà il mio compito e la mia missione, quella di far sorridere e far contenti, emozionando anche attraverso la tv.